Un caro saluto da Mario Giulianci e gli amici di Cosenza. Che tempo farà per questo fine settimana e nella prossima settimana? Bene, fine settimana con bel tempo perché la perturbazione che sabato raggiungerà il nord non raggiungerà ancora le estreme regioni meridionali. Però a partire da lunedì un vortice di bassa pressione che si genererà sulle regioni centrali influencerà tutta l'Italia, quindi anche Cosenza e provincia. Piogge non solo lunedì ma piogge che insisteranno tutti i giorni addirittura fino a venerdì della prossima settimana. Per quanto riguarda le temperature, il freddo in arrivo tra lunedì e giovedì sul centro-nord dell'Italia non raggiungerà le regioni meridionali, quindi ancora temperature incredibili.